Musica Tanti like per capo bassone Aga gaga gaga Bella a tutti bambini Bella a tutti siamo di nuovo qua Su Battle Island Questo video è dedicato solo ai miei veri fans Solo ai miei veri fans Gli altri se ne possono andare a fare in culo A raccogliere le margherite E a mangiare la merda di cane Perché questo è dedicato solamente ai fan di Battle Island La nuova base Come si compone Ho messo 4 isolette in alto Per coprirmi bene i depositi di risorse Che vengono attaccati dagli stronzi Poi cosa abbiamo Vedete che abbiamo una torretta diversa Con la cappella d'acciaio Questa è la mitragliatrice di grado 8 Vedete che si differenzia da questa Che è il grado 7 Che ha il tendone sopra Quando la upgraderemo Diventerà così come questa Quindi le farò tutte a livello 8 Ci vogliono 450.000 risorse Ma voi sapete che con i miei attacchi micidiali Li facciamo in due volte In due botte Li facciamo subito i soldi Comunque abbiamo 5 di queste mitragliatrici Poi ho messo 3 OBC I due ne avevo già Come vi ricordate Ho messo un terzo qui Che mi copre la zona a est Un altro deposito in mezzo Questo ovviamente è di livello superiore Questo ancora lo devo fare E poi il grande La new entry È una cannoniera Aggiuntiva A quella che già avevo qua In basso a sinistra Vedete Questa ce l'avevo già Sempre a livello 1 Tutte e due Le devo sviluppare Ma ci vuole Un milione Ci vuole un milione Un milione Ci vuole per sviluppare Ste cazzo di cannoniere Però Se la sviluppate fidatevi È potentissima Vedete Queste ne ho 5 Di mitragliatrici In basso abbiamo Altre strutture Abbiamo una mitragliatrice Come questa Vedete Un'altra Con la cappella Di tessuto Poi ho aggiunto Una nuova fabbrica Perché andando avanti Con il grado Mi ha aggiunto Una nuova fabbrica Ovviamente È a livello 5 La devo fare A livello 7 Come tutte le altre Benissimo Questa è la nuova base Ovviamente Due meccanici Le caserme Eccola qua La nuova base Vedete Io ho aggiunto Anche un nuovo Pozzo petrolifero Per fare altri Big money Che in aggiunta Agli attacchi Divento veramente Ricco Come Donald Trump Divento come Donald Trump Benissimo Allora vedete Che qua Ci vuole 3 giorni Per sviluppare Questa difesa Oh Voi non ci crederete Questo mi ha detto 6 giorni Ci volevano Sono già passati 3 giorni E ancora non è finito Questo qui Praticamente Mi aggiunge Altri 2-3 slot Per mettere Un carro armato Di difesa in più Quindi siamo a posto Allora qua La base ancora La devo sistemare Mi ha aggiunto Qualche mina Qualche mina Aquatica Eccetera Eccetera Ho sviluppato I due porti Insomma Siamo abbastanza potenti Dai Ecco la base di febbraio Poi vi farò altri attacchi Appena ho la possibilità Ora vi saluto Un bacino sulla figa Delle vostre sorelline E grazie per l'attenzione E andate ad appisciare In bocca Tanti like per capo bassone Aga gagaga E andate ad appisciare E andate ad appisciare E andate ad appisciare